fratelli bianconeri e non cr7 si è infortunato mannaggia questa non ci voleva è stato visto uscire dal campo durante la partita del portogallo infortunato al 31esimo minuto sostituito da pizzi è uscito con le sue gambe quindi non in barella camminando ha fatto una smorfia come per dire peccato però ovviamente bisognerà sapere cosa dicono gli esami strumentali di questa cosa perché tu sui forum non ci puoi stare perché sui forum non ci puoi stare perché la gente sono tutti medici sono tutti i medici sanno tutto perché se si tratta di una contrattura se si tratta di uno questo se si tratta di un quello sono tutti bravissimi sono tutti medici dottori ingegneri altolocati quando non sa assolutamente nulla nessuno il medico del portogallo non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione probabilmente cristiano sarà negli spogliatoi con la borsa del ghiaccio dove dove al problema e conoscendolo è un terminator quindi la sua reazione sarà stata di una disapprovazione momentanea ma di certo farà di tutto per poter essere presente all'andata con l'ajax il tutto chiaramente bisogna prenderlo con le molle perché quando ci sono infortuni di questo tipo possono essere molto pericolosi ora io non voglio fare il menagrammo ci mancherebbe altro ma il discorso è bisogna vedere se si tratta di una contrattura o di uno stiramento speriamo non sia uno stiramento perché lo stiramento è sicuramente molto più pericoloso a livelli di tempistiche lo stiramento ti può anche tener fuori un mese un mese e mezzo se si tratta di una contrattura uno come cristiano ronaldo teoricamente in una decina 10 15 giorni potrebbe già essere a disposizione quindi speriamo non sia nulla di grave questo qui per lo meno è quello che ci auguriamo perché io me ne sono uscito poco fa da un forum della juventus e come dicevo nel video di oggi tutti oa non c'è problema il l'ajax lo possiamo battere anche senza cr7 beh a me fa piacere di questa convinzione dei fratelli bianconeri ma io come dicevo appunto nel video di oggi direi di andarci molto con le molle con i piedi di piombo perché per me un conto è affrontare una partita di champions con cr7 in campo un conto è senza ripeto è inutile stare qui a fare programmi è inutile stare qui a fare presentazioni inutile star qui pensare questo è successo così cosa bisogna aspettare gli esami strumentali e gli esami strumentali sicuramente non credo che prima di domani si possa sapere qualcosa io rimango collegato ho mandato adesso un messaggio anche al mio amico torinese ma ovviamente anche lui non sa assolutamente nulla perché fino che perlomeno il medico del portogallo non rilascerà una dichiarazione questo piccolo e breve video l'ho fatto per informarvi di questo non so se c'era qualcuno tra voi che non lo sapesse oppure ce n'è qualcuno di voi che ha già cominciato a bestemmiare da qualche mezz'ora ciò non toglie che sotto questo video magari se voi foste così gentili da tenermi magari anche aggiornato per sapere se ci sono delle novità non è una bella notizia speriamo non sia niente di grave auguriamoci che tutto vada per il meglio in tempi relativamente brevi ciao a tutti